Nel paese della Terra di Mezzo, la leggenda narra di Sauron, l'oscuro signore, e dell'anello che gli avrebbe dato il potere di rendere schiavo il mondo. A Sauron occorre questo anello per avvolgere la Terra nell'oscurità. Cosa devo fare? L'anello deve essere distrutto. L'anello va gettato tra le fiamme del Monte Fatto. Ricorda Frodo, l'anello sta cercando di tornare dal suo padrone. Lui vuole essere trovato. Non posso farcela da solo. Hai la mia spada. E hai il mio arco. E la mia ascia. Dove? Leghiamolo e lasciamolo qui. Conosci la strada per Mordor? È l'anello. Frodo c'è il possesso. Il nemico non vorrà mai Aragorn sul trono di Gondor. È il momento. Dagli la spada del re. Diventa quello per cui sei nato. Non possiamo ottenere la vittoria con la forza delle armi. Non per noi stessi. Ma possiamo dare a Frodo una possibilità. No! 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 Grazie a tutti.